Buongiorno, prima edizione del nostro notiziario che apriamo parlando di Sant'Agata nella capoluogo Ettenneo entra nel vivo la festa con l'offerta della cera, nessuna processione in via Ettennea solo il sindaco Pogliese in una cattedrale chiusa a tutti ha offerto le bianche candele dopo aver visitato insieme con l'arcivescovo di Catania e Cristina gli ospedali cittadini per ringraziare gli operatori sanitari impegnati nella lotta al covid. Sentiamo Mario Grasso E' irreale il silenzio in piazza Duomo pochi minuti prima di mezzogiorno dal portone di Palazzo degli Elefanti non escono le carrozze del Senato nella fornace parte la lunga lunghissima processione in direzione della cattedrale per l'offerta della cera il 3 febbraio sì, il 3 febbraio nell'era del covid che blocca a Catania tutti i rituali della festa della Santa Patrona che proprio nel giorno del 3 febbraio segnano il loro inizio con l'offerta della bianca cera la piazza simbolo di Catania è presidiata discretamente dalle forze dell'ordine il sindaco salvo pogliese pochi minuti prima di mezzogiorno esce fuori dal palazzo per percorrere a piedi il breve tratto di strada che separa il municipio dall'arcivescovado per fare ingresso in cattedrale nessuno è ammesso alla liturgia guidata dall'arcivescovo di Catania Monsignor Cristina con cui la chiesa ricorda il martirio agatino ma che affida pure la città ad Agata, devotissima patrona Cristina si sofferma certo sull'esempio di Agata ma anche sull'esempio di chi oggi combatte il covid cioè i medici e il personale sanitario degli ospedali cittadini che assieme al sindaco pogliese ha voluto salutare proprio poco prima dell'offerta della cera poi il sindaco da solo rende il rituale omaggio Una cerimonia sobria, molto sentita, molto particolare senza il calore dei devoti, dei fedeli, dei catanesi ma era giusto così abbiamo immaginato questo programma totalmente rivoluzionato rispetto a quello che abbiamo sempre vissuto ma era una scelta doverosa all'interno di un contesto pandemico era doveroso donare la cera a nome della città a Sant'Agata e quindi abbiamo vissuto questa nuova esperienza con l'intensità di sempre Questo 3 febbraio di fatto apre i festeggiamenti alla patrona ieri il suo appello, in realtà ripetuto più volte nel corso dei giorni sino oggi la città ha sembrato recepire l'appello stesso I catanesi si stanno comportando in maniera ineccepibile i devoti in primis ma tutti i catanesi oggi abbiamo anche compiuto un atto altrettanto doveroso insieme all'arcivescovo andando nei tre ospedali cittadini per esprimere un sentimento di sincera gratitudine per quello che ha fatto il mondo sanitario il mondo medico, il mondo paramedico, il mondo infermieristico combattendo ventre a terra, in trincea una battaglia all'interesse di tutti l'unico evento esterno che abbiamo immaginato dall'alta valenza simbolica siamo felici di averlo fatto E divieto il distazionamento in Piazza Duomo in occasione dei festeggiamenti a Gatini l'appello del quest'ora affinché vengano rispettate da tutti le necessarie prescrizioni per evitare eventuali occasioni di contagio sarà possibile seguire la festa in streaming o in tv Sentiamo Catania entra nel clima dei festeggiamenti a Gatini anche se quest'anno la ricorrenza in onore della Santa Padrona sarà vissuta in maniera assolutamente differente rispetto all'appassato le restrizioni Covid infatti impongono determinate limitazioni come quella di evitare l'assembramento in particolare in Piazza Duomo in occasione dello svolgimento delle celebrazioni eucaristiche in onore di Sant'Agata che si svolgeranno in cattedrale a porte chiuse Sarà possibile comunque seguire la festa con diretta streaming o televisiva inevitabile il divieto di stazionamento per le persone in Piazza Duomo la decisione del primo cittadino pogliese è stata concordata con il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e si è rese inevitabile stante l'attuale prescrizione anti-Covid le misure di ordine e sicurezza pubblica che abbiamo deciso di adottare per questi tre giorni è quella del massimo contenimento che era doveroso per la situazione pandemica in atto e devo ringraziare in questo senso sia il Sindaco che l'Arcivesco per la comprensione a questa situazione ovviamente riteniamo comunque di dover garantire una cornice di sicurezza adeguato che vedrà nei tre giorni le forze di polizia che faranno in modo tale che le celebrazioni di carattere religioso raggiungano lo scopo che noi ci prefiggiamo di raggiungere Piazza Duomo sarà transennata solo ed esclusivamente nei momenti dell'aurora e del pontificare del giorno successivo in maniera tale che le forze di polizia abbiano la possibilità di governare meglio eventuali assembramenti che noi però riteniamo non ci siano confidando anche sul senso di responsabilità dei catanesi che finora si è dimostrato molto elevato La cronaca adesso sorvegliavano anche le forze dell'ordine temendo un blitz che però non hanno potuto evitare in manette il gruppo rampante della clan Cappello Bonaccorso traffico di droghe e armi per una sodalizia ritenuta assai pericolosa dalla polizia di stato che ha eseguito 15 arresti La tracotanza, la pericolosità, così la squadra mobile della questura di Catania tratteggia l'identikit dei due gruppi emergenti del clan Cappello decapitati lo scorso 28 gennaio nel corso di una operazione sotto copertura che ha impegnato più di 100 agenti Sotto copertura perché la polizia ha dovuto eludere la sorveglianza costante dei componenti il sodalizio che avevano installato telecamere non solo nelle abitazioni perquisite ma anche in una strada nei pressi del villaggio Ippocampo di Mare e che con apposite ronde avevano persino tentato di tenere sott'occhio le attività della polizia come si vede da questi video oltre che installare microcamere nei pressi delle caserme delle forze dell'ordine operazione questa che non avrebbe avuto attuazione per cui su delega della procura distrettuale della Repubblica di Catania sono state tratte in arresto 15 persone tutte appartenenti alla frangia dei Cappello Bonacorsi perché responsabili a vario titolo di associazione di tipo mafioso con l'aggravante di essere associazione armata associazione delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanza stupefacente e spaccio in concorso con l'aggravante di aver agevolato il traffico ai Cappello Bonacorsi detenzione illegale di diverse armi anche da guerra nonché ricettazione al vertice dei due gruppi Massimiliano Cappello, fratello dell'ergasto Lannoturi che si occupava del traffico di droga marijuana trattata resa più efficace dunque e denominata amnesia a San Giovanni Galermo e che dopo la scarcerazione aveva ripreso le redini del gruppo e poi Salvuccio Lombardo Junior figlio di Giuseppe Salvatore che aveva creato una vera e propria roccaforte all'interno dei villaggi a mare prossimi all'oasi del Simeto nel corso delle perquisizioni i poliziotti si sono introdotti in quelle zone camuffandosi all'interno di alcuni furgoni per eludere i sistemi di videosorveglianza sono state sequestrate armi anche da guerra nelle abitazioni di Giuseppe Di Stefano e di Sebastiano Cavallaro denaro incontante per quasi 200.000 euro oltre due chilogrammi di marijuana trattata Salvuccio Lombardo Junior secondo gli inquirenti avrebbe tentato di scalare la leadership mentre Massimiliano Cappello che faceva vita riservata si sarebbe avvalso di fidatissimi per la gestione degli affari persino organizzando riunioni del clan in abitazioni estranei ai sodali così da sviare le indagini della polizia che hanno avuto l'input anche dalla azione ritorsione tra clan dello scorso 8 agosto a Catania a seguito di questa attività investigativa avevamo il sospetto che il gruppo clan Cappello ma in particolar modo il gruppo di Lombardo Salbuccio Iuno detenesse un arsenale di armi nonché droga nonché proventi dell'attività illecita all'interno dell'ossi di assenso assolutamente e questa diciamo così ipotesi diciamo e nonché la detenzione delle armi chiaramente ci ha determinato ancora di più di intesa con l'autorità giudiziaria a procedere chiaramente alle perquisizioni il loro intendimento era quello di creare un sistema di videosorveglianza diciamo innanzi all'ufficio della squadra mobile in modo tale da prevenire eventuali diciamo così perquisizioni o diciamo così ispezioni o dei eventuali arresti eseguiti dalle forze dell'ordine sequestro di armi da guerra a disposizione dei clan tra queste anche una bomba a mano del tipo utilizzata nella guerra dei Balcani alla luce di ultimi fatti di sangue i carabinieri del comando provinciale di Catania hanno intensificato i controlli nei quartieri a rischio della città per contrastare con maggiore efficacia le attività post-ineste dei statalizi criminali operazione la notte scorsa ha consentito di rinvenire e sequestrate le armi da guerra nel quartiere Montepole state vedendo nelle immagini un quartiere storicamente controllato dalla clana dei Cappello i carabinieri del nucleo radiomobile hanno effettuato delle perquisizioni in uno scantinato in via Salvatore Salomone Marino e hanno rinvenuto in uno borsone un fucile kalashnikov una bomba a mano 34 cartucce calibro 12 16 cartucce 7,65 e 46 del calibro 9 per 21 sono intervenuti anche gli artificieri anti-sabotaggio del comando provinciale per porre il tutto in sicurezza e ancora cocaina nascosta in un'officina abusiva di turi mille macchine un arresto dei lupi in via Zialise i carabinieri della nucleo investigativo del comando provinciale coadiuvati dalla nucleo cinofoli di Nicolosi hanno arrestato il 54enne Salvatore Rinaldi detto turi mille macchine perché è ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti l'uomo è un esponente di spicco della famiglia di Cosa Nostra del clan Santa Paola Ercolano era da tempo nel mirino dei militari sono state rinvenute all'interno del capannone dove si trovava l'uomo quattro buste di plastica nascoste all'interno di un'auto da questo c'era della droga ancora in pietra dalla quale sarebbe stato possibile ricavare 700 dosi per un valore di oltre 20 mila euro Rinaldi è stato rinchiuso nel carcere di Caltagirone adesso andiamo invece a Noto nel Siracusano dove la Guardia di Finanza ha sequestrato un'azienda alimentare eseguendo anche due misure cautelare nel contesto di un'indagine che ha riguardato cinque persone accusate di trasferimento fraudolento di valori sentiamo la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Catania ha eseguito due misure cautelare personale di un provvedimento di sequestro preventivo di una rivendita di genere alimentare a Noto nel Siracusano l'indagine ha riguardato cinque persone tutte residenti nella provincia dell'Etusea e sottoposta ad indagine per trasferimento fraudolento di valori con la finalità di eludere la normativa antimafia in particolare nel Mirino il profilo patrimoniale di Domenico Albergo considerato il referente del clan Triglia operante in provincia di Siracusa sul quale gravano già condanne con sentenze definitive per associazione mafiosa nel 93 e nel 94 e nel 2006 lo stesso su indagini svolte del nucleo PEF della Guardia di Finanza di Catania è destinatario di misure di prevenzione relative alle sue attività commerciali sono state denunciate complessivamente cinque persone accusate di trasferimento fraudolento di valori il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Siracusa ha disposto il divieto temporaneo nell'esercizio della professione di dottore commercialista per un anno nei confronti di Nicolò Tullio Lentini di vieto temporaneo di esercitare imprese per un anno nei confronti di Giuseppe Balistreri ed il sequestro della rivendita di genere alimentari formalmente intestata allo stesso Balistreri ma riconducibile a Domenico Albergo quest'ultimo con il supporto di altri due sodali avrebbe avviato a noto una nuova attività commerciale appunto la rivendita di genere alimentari intestandolo ad un prestannome Giuseppe Balistreri suo stesso dipendente il commercialista Nicolò Tullio Lentini si sarebbe occupato della pratica ulteriori indagini delle fiamme gialle sono in corso per svelare eventuali altri particolari sulla vicenda Adesso andiamo in riva allo stretto amministrazione controllata per la società Caronte Turist che gestisce i traghetti nello stretto di Messina secondo l'accusa avrebbe favorito Cosche dell'Andrangheta Filippo Romeo La società Caronte Turist che si occupa del traghettamento tra le sponde calabresi e siciliane dello stretto di Messina è da oggi in amministrazione giudiziaria mezzo miliardo di euro è il valore quantificato il provvedimento è stato eseguito dalla direzione investigativa antimafia di Reggio Calabria nell'ambito dell'operazione denominata Scille Caridi coordinata dalla procura distrettuale della Repubblica Regina l'accusa per la società è di aver agevolato esponenti dell'Andrangheta sequestrati i beni del valore di circa 800 mila euro a Massimo Buda dipendente della società e figlio di Santo Buda appartenente all'omonima famiglia di Villa San Giovanni federata secondo gli inquirenti alla Cosca Imerti Condello attiva nel comprensorio di Villa San Giovanni per i magistrati l'uomo assieme ad un altro dipendente dell'azienda il pregiudicato Domenico Passalacqua era di fatto nella disponibilità di aziende che gestivano i servizi di bar ristorazione quelli di pulizia e disinfestazione a bordo delle imbarcazioni nonché i servizi di prenotazione per gli autotrasportatori che si imbarcano sui traghetti del gruppo gli esponenti delle cosche locali sarebbero stati inoltre agevolati tramite l'assunzione di personale segnalato da Buda e nel caso di Passalacqua garantendo anche la retribuzione durante la latitanza le misure cautelari a Buda inoltre sarebbe stata garantita una rapida e brillante progressione in carriera con la capacità di promuovere e gestire le assunzioni e la risoluzione delle controversie tra dipendenti o con i fornitori gli accertamenti investigativi hanno evidenziato come l'uomo rappresentasse la longa manus del padre santo lo scorso ottobre condannato in appello alla pena di 14 anni e 8 mesi di reclusione per l'operazione Sansone perché ritenuto il reggente della cosca Buda Merti il sequestro odierno comprende due ditte individuali comprensive dell'intero patrimonio aziendale con sede a Villa San Giovanni cinque appezzamenti di terreno di cui uno edificabile per complessivi 700 metri quadrati due appartamenti ed un garage a Villa San Giovanni e un immobile nel comune di Lissone nel milanese oltre a disponibilità finanziarie atti vandalici nelle case popolari di via Rovettazzo a Giarre dove lo scorso 28 novembre è crollato uno dei balconi a causa delle condizioni vetuste in cui da anni si trova l'edificio gli ex occupanti sono disperati e ancora alloggiati nel centro di urno Guenda Garozzo i contatori asportati lastre di vetro distrutte da anni agli esterni ci sono già due denunce presentate la paura e che adesso ignoti si intrufolino negli appartamenti lasciati lo scorso 28 novembre depredandoli nelle case di via Rovettazzo a Giarre regna la desolazione qui due mesi e mezzo fa il cedimento di questo balcone l'edificio malandato e le ultime infiltrazioni di acqua piovana hanno dato il colpo di grazia non bastano le recinzioni a fare da deterrente e cresce lo sgomento tra gli ex occupanti sei famiglie che per i successivi 50 giorni hanno soggiornato in un albergo di maschali che da quasi tre settimane sono ospitati in questi monolocali del centro diurno a Giarre ancora senza acqua calda per i riscaldamenti ci si arrangia con stufette elettriche piccoli cucinini garantiscono a malapena cibi riscaldati delle sei famiglie quattro sono ancora in attesa di sapere quando potranno tornare ad avere condizioni di vita dignitose sì allora hanno spaccato i vetri già è passato un po' di tempo hanno rotto alcuni contatori della luce e ovviamente noi ancora lì dentro abbiamo tutto cioè i nostri mobili i vestiti qualsiasi cosa perché non avendo altro posto dove portarli abbiamo ancora tutto là dentro ovviamente anche quando sono venuti a fare delle verifiche degli ACP non ci hanno comunicato niente hanno fatto buchi nei pilastri nelle travi hanno scavato anche vicino al garage e a noi non ci hanno avvertito già la struttura è instabile loro non lo so io credo sia rischioso comunque con tutto quello che noi abbiamo là dentro fare questi lavori potevano almeno aspettare o comunicarci comunque qualcosa qui la situazione è drammatica perché siamo qui appunto da tre settimane però l'acqua calda c'è stata solo un giorno quindi non abbiamo neanche l'acqua calda e appunto come le ha detto prima io ho anche due bambini piccoli e anche per lavarli devo uscire andare da mia madre e lavarli lì per mangiare la stessa cosa anche se alcuni si sono attrezzati comunque con dei fornellini da campeggio però non è la stessa cosa di cucinare a casa o avere un lavandino dove lavare i piatti eccetera non abbiamo proprio niente il riscaldamento non c'è abbiamo preso delle stufe a gas però il comune continua a dire adesso vediamo come possiamo rimediare per l'acqua calda adesso chiamiamo il tecnico però loro a casa si possono lavare loro a casa hanno l'acqua calda noi non abbiamo niente la paura è anche che se i vandali sono arrivati a fare danno all'esterno possono farlo anche alle vostre case denunce per i vetri e il contatore ancora non poterci fare una doccia perché siamo senza acqua calda mi scusi perché mi trema anche la voce il fatto che in questi giorni comunque gli appartamenti siano in una condizione potremmo dire di abbandono perché ci sono stati atti vandali c'è una cosa che vi mette in ulteriore allarme ancora avete tutto dentro le vostre case a parte i beni diciamo di prima necessità che avete portato via all'istante sì allora io sto scoprendo praticamente che c'è una crudeltà c'è una cattiveria una superficialità di noi proprio gratis non è di origine dolosa l'incendio che la notte scorsa ha distrutto un'auto dei vigili urbani di Acicatena secondo la ricostruzione dei carabinieri della locale stazione a causare il rogo è stato un cortocircuito dell'impianto elettrico dell'auto che si trovava in sosta sotto l'arco delle principe annerita la volta di mascherone decorativi in pietra lavica della struttura non è di origine dolosa l'incendio che nella notte ha distrutto la Fiat S100 auto di servizio dal comando della polizia locale di Acicatena l'utilitaria è stata divorata dall'arrogo causato da un cortocircuito all'impianto elettrico intorno all'1.30 della notte scorsa i vigili del fuoco intervenuti per spegnere le fiamme hanno accertato l'innesco del vano motore del mezzo nelle immagini quello che rimane della vettura che gli agenti della municipale utilizzavano per la notifica di documenti e servizi di pubblica utilità indacano i carabinieri della locale stazione che in un primo momento avevano sospettato si trattasse di un incendio di natura dolosa subito smentito dal rapporto ufficiale dei pompieri il mezzo parcheggiato sotto l'arco del principe e le pressi della tenuta nobiliare del campo fiorito oggi di proprietà comunale Fioralocchiello del barocco catenoto a seguito dell'incendio ha compromesso la volta della galleria e i mascheroni in pietra lavica risalenti al 700 riqualificato di recente insieme alla diecente palazzo del principe il ripristino delle parti annerite dal fumo e il recupero dei mascheroni in pietra lavica necessitano di delicate opere di restauro il commento di padre Carmelo Sciuto parroco dalla chiesa della madonna della catena che ha in affidamento un'ala del palazzo certo e questo ci dispiace perché questo ingresso rappresenta un po' quello che è il palazzo e la bellezza di questa opera storica di Acicatena purtroppo abbiamo visto che questo fuoco ha danneggiato i mascheroni e l'interno l'interno è più facile da recuperare i mascheroni ci faremo tutto un lavoro di ripulitura che ci auguriamo e con le autorità predisposte possano subito mettere in atto per poterlo ripulire e riportare allo stato primitivo il comandante della polizia locale Sebastiano Forzì si appreso si fosse trattato di un incendio scaturito da cause accidentali non di un atto intimidatorio come sospettato in un primo momento ha evidenziato come il parco mezzi in dotazione alla caserma sia ormai datato probabilmente causa del cortocircuito che ha determinato l'incendio dell'auto dalle risultanze in nostro possesso in questo momento risulterebbe così anche come ipotizzato anche dai vigili del fuoco che sono intervenuti stamattina i quali con sufficiente certezza si sentivano di escludere la matrice dolosa di questo incendio che ha interessato una delle nostre vetture di servizio peraltro ormai vecchia così come tutto il resto del ristretto autoparco in dotazione alla polizia locale torniamo a catania segnaletica in rifacimento nelle vie ricadenti all'interno del terzo municipio del capologo e tenneo in alcune strade però la segnaletica orizzontale non è stata ancora adeguatamente ripristinata segnaletica orizzontale da ripristinare appieno nelle vie che ricadono nel terzo municipio di catania l'appello è lanciato dalla presidente della circoscrizione Paolo Ferrara in alcune arterie stradali la segnaletica è già stata ripristinata in altre invece sono attesi a breve gli interventi dell'amministrazione comunale e l'ultima settimana il nostro municipio in sinergia con l'amministrazione centrale ha avviato un controllo capillare del territorio e una serie di manutenzioni a mio giudizio fondamentali per esempio tutta la parte di via Mutmeci via Vantano via Cuglielmo oberdan in cui è stato rifatto il basolato lavico per non parlare anche dalla chiusura delle tantissime buche presenti in corso delle province in via Scammacca e in tutte le zone limitrofe del rifacimento della segnaletica orizzontale quindi strisce pedonali stop e quant'altro e tutte le altre segnaletiche che mettono chiaramente in sicurezza le nostre strade già diverse arterie sono state fatte per esempio penso a tutte le strade in cui sono presenti delle scuole presentissime in numero molto numeroso nel nostro territorio nel nostro quartiere in particolare e ci stiamo avviando anche a poter rifare le strisce in altre arterie fondamentali per esempio penso alla zona di Piazza Gavur con via Filocomo la zona di via Scammacca e le vie limitrofe tutte le altre zone inerenti la zona Sanzio via Imperia per esempio e quindi stiamo potendo attenzionare questa problematica consapevoli chiaramente dei limiti del comune chiaramente le forze in campo dovute anche al dissesso però ci stiamo siamo sempre presenti sul territorio e stiamo penso portando a casa degli ottimi risultati nel circondario già realizzata la segnaletica orizzontale ancora qui bisogna intervenire siamo nella zona di via Patova sì come dicevo c'è un controllo costante già le diversità sono state fatte a parte le scuole abbiamo già tantissime zone per esempio la Vietnea e le zone limitrofe che sono state interessate da degli interventi di rifacimento della segnaletica penso ai prossimi obiettivi la zona di Viala la zona di Vicesere Beccaria e tutte le arterie che sono lì vicine andando ovviamente sia verso il centro sia anche le zone più periferiche perché non scordiamoci che ovviamente bisogna mettere in sicurezza sia le strade del centro sia le zone più periferiche e residenziali parliamo adesso di carnevale al tempo del covid la fondazione che organizza il più bel carnevale di Sicilia ad Alcidale ha programmato in tre step gli eventi in calendario a fine febbraio le attività culturali a sfondo carnascialesco ad aprile sarà la volta dei carri infiorati mentre in agosto si trarà la parata dei carri in carta peste il presidente cunda riconferma tutti gli eventi naturalmente pandemia permettendo il carnevale ai tempi del coronavirus non scoraggia gli organizzatori che hanno calendarizzato le serie di eventi a tema nella speranza di tempi migliori per le manifestazioni pubbliche al momento azzerate per l'emergenza sanitaria ed è la speranza il tema portante di un video di grande impatto realizzato dal videomaker Leo Sorrentino con la protagonista Lavica la mascotte della manifestazione che guarda al futuro con ottimismo e fiducia il video proiettato in sala stampa stamani per la prima volta di cui vi proponiamo alcuni spezzoni rappresenta la prima novità della manifestazione che viene confermata nei tre steppi della parentesi di febbraio quella primaverile riservata ai carri infiorati e la parata dei grandi carri allegorico grotteschi se la pandemia ci concederà una tregua il carnevale storico di Eceriari è la più importante manifestazione della città che ha saputo ritagliare sul ruolo in ambito nazionale sulla quale amministrazione comunale e fondazione investono importanti risorse economiche una grande finestra promozionale non solo per la città ma per l'intera isola un segnale un segnale importante perché il carnevale e la manifestazione è più importante della nostra città e di conseguenza era importante esserci anche se non nella forma consueta che noi tutti quanti conosciamo in una forma ridotta però un segnale un segnale sia di speranza ma un segnale soprattutto di presenza perché con questo segnale vogliamo dire che il carnevale c'è il carnevale faremo di tutto per cercare di farlo logicamente sempre rispettando le norme sanitarie stamani in conferenza stampa il sindaco Stefano Alì ha sottolineato l'importanza dell'evento carnascialesco che ha una storia iniziata negli anni 30 del 900 un patrimonio collettivo di grande importanza che la fondazione sta cercando di ricostruire attraverso filmati storici da consegnare ai posteri poi anche l'idea questa della presentazione di oggi secondo me è un un passaggio importante che rimarrà anche poi per le prossime edizioni perché il carnevale c'era è un carnevale storico ha una tradizione quindi riuscire a raccogliere anche queste immagini di quando eravamo più giovani come vivevamo il carnevale in maniera diversa certo non ho rimpianti per le mazzarelle però chi è 10 reale ricorda sicuramente l'immagine del cafone si diverte così che c'era in piazza Garibaldi rappresentava un carnevale un modo di vivere il carnevale diverso e quindi risalire alle nostre origini a come era vissuto il carnevale io facevo il gruppo mascherato col circolo universitario ed era anche un momento diverso che oggi non è più così e quindi risalire a queste nostre tradizioni è sicuramente bello e rappresenta anche a chi non ha vissuto quei tempi qual era lo spirito del carnevale di una volta il presidente del CDA della fondazione del carnevale Gaetano Kundere guarda il futuro con ottimismo e pensa presente con nuovo slancio nelle nostre speranze aspettative sono confermate abbiamo individuato come si era già più volte detto nel periodo di febbraio che è il periodo canonico dove il carnevale ci sta mancando tantissimo abbiamo individuato queste attività culturali particolari e quindi lanceremo in giro per l'Italia questa nostra voglia e volontà di divulgare il nostro carnevale poi l'idea di aprile speriamo aprile maggio speriamo che possa essere realizzata ma dipenderà dall'andamento sicuramente invece di questo sono veramente sicuro e certo ad agosto se sarà la prima parte o la seconda parte di agosto questo dipenderà dall'andamento della pandemia avremo questa riavremo la nostra parata dei carri allegorici grotteschi e a proposito di carnevale a Giara la Prologo sta organizzando un concorso a premi rivolto ai più piccini che in occasione dell'evento carnascialesco potranno inviare le foto o le loro foto investite in maschera un'iniziativa social che dona un po' di serenità e allegria al tempo del covid il carnevale in tempo di covid è possibile grazie alla tecnologia a Giara dove il pensiero va ai più piccini protagonisti loro malgrado di un periodo fortemente vincolante della socialità a mettere in campo una nuova iniziativa è la Proloco dopo l'arrivo della Befana lo scorso mese di gennaio concorso a premi per le maschere più simpatiche originali ed estrose sicuramente in un periodo così difficile ancora preso da questa emergenza covid non ci possiamo che non fermarci e andare avanti andare avanti e pensare anche nel momento dedicato ai bambini soprattutto in questo periodo di carnevale il carnevale che per i bambini è una cosa di allegria di spensieratezza di far fare qualcosa anche di bello da casa abbiamo pensato di fare proprio il carnevale bambini tutti in maschera postando una foto una foto e mandarlo sul nostro sul nostro sito o sul nostro profilo e noi assolutamente vedendo l'abito di come sono vestiti la maschera daremo dei premi e così i bambini saranno anche contenti con un momento di attestato di partecipazione e anche un pensierino per tutti loro per tutti i partecipanti successivamente con uno dei genitori muniti di mascherine e tutto quant'altro verranno a ritirare l'attestato e il premio il premio sarà la maschera più originale il vestito più estroso e qualche altra novità magari di qualche personaggio famoso che sarà particolarmente indossato dal bambino per l'iscrizione l'ultimo giorno di iscrizione sarà il giovedì grosso in modo che le foto saranno postate sul nostro portale fino al martedì della chiusura del carnavale la nostra pagina web prologoggiare oppure l'ufficio stampa prologoggiare e poi tramite mail prologoggiare chioccegmail.com Bene, non ci sono altri aggiornamenti seguite qui questa edizione della telegiornale che potrete seguire tra poco sul sito rettv.it sui nostri canali social l'informazione torna più tardi con la seconda edizione in diretta a partire dalle 19.45 ringrazio in energia Paolo Coco e Emanuele Amosumeci vi invito a seguire le previsioni meteo arrivederci sole splendente su gran parte della Sicilia nella giornata del 4 febbraio 2021 qualche nube soltanto nell'entroterra per il resto una bella giornata ovunque i mari saranno calmi temperature previste nelle medie stagionali a Catania si andrà da una minima di 11 a una massima di 21 gradi un trend simile anche nelle altre province siciliane con la temperatura più alta prevista a Siracusa con 22 di massima